Roberto Barrea Fresco di Conferma come preparatore atletico della Vastese, quali le aspettative per questa nuova avventura in Abruzzo? Innanzitutto mi preme ringraziare la società per questo rinnovo contrattuale. Ho visto passare diversi allenatori ma alla fine sono rimasto e ringrazio la società, la figura dei presidenti e del direttore d'Ottavio. Le aspettative credo siano buone perché in una piazza come Vasto non si può viaggiare sotto traccia, sicuramente il direttore sarà bravissimo nello strutturare una squadra di buon livello, i presupposti sono buoni, il mister Agovino è un allenatore navigato di categoria che saprà organizzare sicuramente molto bene la squadra e quindi penso che riusciremo a fare un buon campionato. A proposito degli allenatori, con il mister Agovino ti sei scontrato più volte da avversario, quest'anno che verrà, lo ritroverai sulla tua stessa panchina, che effetto fa? È un piacere e un onore poter collaborare e lavorare con lui e affrontare questa avventura, ci siamo incontrati tante volte quando lui allenava ad Agnone e Trivento e io ero a Isernia e poi successivamente a Termoli. È un allenatore che ho sempre apprezzato perché sa organizzare molto bene le sue squadre, giocano in maniera offensiva, è un calcio veramente spumeggiante e non vedo l'ora di poter collaborare e lavorare con lui. Una squadra che sta prendendo forma, quella della Vastise, si parla di giocatori di esperienza, è un mix con giovani di qualità. Cosa pensi del mercato? Fiducia assoluta nel direttore d'Ottavio che sicuramente, come dicevo prima, è al lavoro per allestire una rosa all'altezza della piazza. Per ora le conferme dello scorso anno sono Altobelli e Di Filippo che sono due centrali difensivi di categoria che l'anno scorso hanno garantito delle prestazioni ottime. Sicuramente ci sarà da intervenire per quanto riguarda gli under ma penso che, come ripeto, si potrà costruire una squadra che sarà competitiva per il Girone F. Per quanto riguarda il campionato, inevitabilmente si risentirà, anche se si spera in minima parte, della situazione Covid-19. Cosa e come può cambiare la stagione in tal senso? Beh, questa è una problematica molto seria da affrontare a brevissimo tempo prima dell'inizio del campionato. Sicuramente può influenzare tantissimo lo svolgimento delle gare e l'organizzazione. Certamente secondo me si dovrà rivedere un po' il protocollo attuativo di sicurezza perché così com'è difficilmente potremmo affrontare trasferte o partite. Vedremo nelle prossime settimane ma sicuramente ci sarà da riorganizzare un po' il tutto. Noi affrontiamo la stagione come una stagione normale però siamo consapevoli che possono esserci delle problematiche che possono rendere instabile il campionato. Per quanto riguarda le avversarie molto ovviamente dipenderà dal girone e da quello che sarà il mercato di tutte le formazioni, di tutte le società. Qual è l'auspicio da parte tua in tal senso? Beh, seguendo un po' le varie voci di mercato sto vedendo che il Pineto sta facendo degli acquisti ottimi, sta allestendo una rosa molto competitiva e sicuramente punterà a vincere il girone così come credo la Re Canatese. Molto dipende anche dalla presenza o meno del camo basso nel girone F. Se eventualmente ci fosse la presenza del camo basso sarà sicuramente la più accreditata per la vittoria del campionato. Noi parlando col direttore per ora non abbiamo stabilito un obiettivo preciso di campionato. Cercheremo di fare il meglio possibile, vedremo il mercato come va, dopodiché potremo tirare le somme e vedere dove possiamo arrivare.